La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Non è mai possibile che questa città non ti fanno in mente niente a raccontare. Ed era bellissima. Un gigante! Insomma, schizzi, a dire che cosa riesco? A dire una cosa racconta? Sì! E di mail! A dire una cosa racconta? Sì! Sì! Sì!